Qual è la connessione tra lividi e sangue? Le contusioni, anche comunemente denominate ematomi o contusioni, sono in genere causate da vasi sanguigni rotti. Quando il corpo è ferito, la pelle non si rompe sempre, ma i muscoli e i tessuti sotto la pelle possono ancora essere danneggiati. I piccoli capillari e le vene possono rompersi, consentendo al sangue di accumularsi nell'area. Alcune condizioni possono anche portare a sanguinamento che provoca lividi senza alcun tipo di lesione. La maggior parte dei tipi di sanguinamento lieve sotto la pelle sono ciò che causa la decolorazione conosciuta come un livido. Esistono tre tipi generali di lividi, sottocutaneo, intramuscolare e osseo-periostale. I lividi sottocutanei sono lividi appena sotto la pelle e sono solitamente causati da urti o lesioni minori. Nel caso di contusioni intramuscolari, i lividi e il sangue sono all'interno del muscolo stesso. Con questi lividi, la ferita originale è di solito abbastanza grave da provocare anche lividi cutanei, ma quelle contusioni superficiali possono guarire molto più velocemente della lesione muscolare. Le contusioni muscolari possono rimanere a lungo dopo che i lividi della pelle visibile si sono sbiaditi. Il terzo tipo di livido, un livido osseo-periostale, è in genere il tipo più doloroso. In questo caso, i lividi e il sangue sono all'interno dell'osso stesso. Questi sono generalmente lividi profondi che a volte vengono erroneamente diagnosticati come fratture ossee. Lividi periostali e sangue che si accumulano nel tessuto osseo tipicamente durano molto più a lungo della pelle o dei lividi muscolari. I lividi più visibili iniziano con il rosa o il rosso e possono diventare più scuri dopo un giorno o due. Il colore rosa-rosso iniziale è il sangue rosso che mostra attraverso la pelle. Quando il sangue invecchia sotto la pelle, inizia a scoppiare e diventa più scuro, cambiando il livido dal rosso alle tonalità del viola o del nero. I lividi invecchiati possono assumere una dominante verde o gialla mentre svaniscono, mentre i resti di sangue sotto la pelle si rompono ancora di più. Alla fine, i tessuti del corpo riassorbono il sangue, e il lividi di solito svanisce nel giro di pochi giorni. Nella maggior parte dei casi, lividi e sangue sotto la pelle non sono gravi e generalmente si risolvono da soli. Le persone che sanguinano facilmente, come gli emofiliaci o le persone che assumono farmaci che fluidificano il sangue, potrebbero dover osservare attentamente gli ematomi come segno di emorragia interna che può diventare seria. Se compaiono lividi inspiegabili e depositi di sangue sotto la pelle, potrebbe essere un segno di una reazione a un farmaco o una condizione medica che potrebbe richiedere un trattamento. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, un livido è semplicemente un segno di un lieve d'osso o di un infortunio che generalmente svanisce entro una o due settimane dal momento che il corpo riassorbe il sangue.